Buongiorno buongiorno buon giovedì buon giovedì 18 febbraio benvenuti benvenuti a mattino insieme in queste ore tutti gli occhi sono puntati su Mario Draghi ieri lo sapete al senato il suo discorso programmato tico che ha disegnato l'Italia dei prossimi anni oggi appunto si farà il bis alla camera per parlare degli argomenti di più stretta attualità abbiamo ospite in studio questa mattina Augusto Goio che è giornalista di vita trentina buongiorno 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 agli ascoltatori partiamo con l'apertura che proponete proprio di vita trentina l'apertura è città senza auto questa mattina con un'intervista un'intervista particolare e bisogna dire qui ci possiamo anche ricollegare proprio a quello che ha detto Draghi ieri nel suo discorso programmatico perché c'è molta attenzione sul green proprio sul verde sull'energia verde sulle rinnovabili e anche nel discorso di Draghi sì certamente ci siamo voluti collegare a questo a questi temi questi temi della transizione ecologica e abbiamo appunto interpellato l'assessore comunale di Trento alla transizione ecologica appunto e alla mobilità che è l'ingegnere Ezio Facchin e in qualche modo questo ci ricollega appunto ai temi di cui accennavi prima questo è stato uno dei leitmotiv anche del discorso programmatico di Mario Draghi ieri al Senato un'attenzione all'ambiente che è stata sottolineata poi anche nel plauso così delle forze politiche di questa larga coalizione della quale si occupa anche il nostro editorialista Paolo Pombeni in qualche modo anche un po' critico nei confronti di quella che chiama una ciurma di Mario Draghi insieme una coalizione una grosse coalizione in qualche modo che vedremo e questo è un po' quello l'interrogativo che pone Pombeni se saprà poi mantenersi unita e unità è proprio una delle parole l'altra parola chiave usata da Mario Draghi ma tornando appunto al tema del servizio di apertura lo abbiamo voluto collegare anche al primo anniversario in qualche modo della pandemia da Covid-19 che ha costretto tutti noi a ripensare anche il nostro muoverci a confrontarci anche con la difficoltà di restare a casa per un lungo periodo per contenere il contagio ha costretto anche molte l'economia a ripensarsi c'è tutto un interrogativo anche su quello che sarà dei posti di lavoro un altro tema toccato da Mario Draghi delle aziende che in qualche modo in futuro dopo questo scossone dovranno anche chiudere l'ha detto chiaramente Mario Draghi e quindi questi lavoratori dovranno in qualche modo essere formati e riconvertiti ad altri lavori sono temi che comunque toccano anche la città di Trento e questa transizione ecologica come vorrà essere declinata ce ne parla appunto l'ingegneria Zeo Facchini a partire dai grandi progetti che suscitano anche proteste anche legittime nel dibattito delle opinioni e il servizio che vogliamo fare è proprio quello di porre proprio i temi sul tappeto per un confronto che ci potrà sicuramente essere anche con chi è critico nei confronti di queste grandi opere e in proposito proprio oggi si terrà un appuntamento online rivolto in particolare agli abitanti del soborgo di Povo dove in questo periodo sono in corso dei sondaggi proprio in vista della realizzazione del passante ferroviario è un approfondimento che troveranno i lettori anche sulle nostre pagine. Poi ovviamente parlate anche del richiamo dell'appello fatto dal Vescovo Tisi in occasione proprio del mercoledì delle ceneri un richiamo al vaccino, al vaccino che sia per tutti, lo ha detto già più volte bisogna dire anche Papa Francesco questo, no? Il Vescovo Tisi ne ha voluto parlare ieri in occasione della celebrazione delle ceneri dal santuario di Montagnaga di Pinè e un appello appunto perché anche sulla scorta di quanto affermato in più occasioni anche da Papa Francesco come ricordavi giustamente tu, questo vaccino sia veramente per tutti, sia messo a disposizione anche di quei paesi che ci ricorda il quotidiano avvenire non ne dispongono, sono più di 130 i paesi nel mondo dove il vaccino ancora non si è visto e anche da noi vediamo nelle vostre immagini, lo vedranno i lettori invece sugli scatti del nostro fotografo Gianni Zotta che è stata avviata appunto la campagna anche per i nostri anziani dopo aver così vaccinato gli anziani nelle case di riposo è partita questa campagna che pur con i tempi necessari dovuti appunto al fatto che questo vaccino poi possa anche essere richiamato con la seconda vaccinazione in qualche modo dovrebbe condurci verso una primavera, un'estate più serena e a questo tema si richiama anche nell'editoriale Vincenzo Passerini che appunto ripercorre questo anno segnato dalla pandemia con un accento anche sulla necessità della ricerca della verità per quanto possibile smascherando anche le bugie di chi in qualche modo ha voluto ottenere nascoste delle verità magari scomode e in questo anche il ruolo della stampa dei media può essere assolutamente centrale e importante Vi occupate poi nelle pagine interne del Safe Internet Month che è partito proprio il 9 febbraio ci saranno una serie di iniziative per tutto il mese di febbraio e per alcuni giorni di marzo che si vuole sensibilizzare proprio i più giovani alla sicurezza in rete ne parleremo anche dopo con uno dei nostri ospiti qui a mattino insieme di questo Sì, presentiamo il portale della rete nazionale per il contrasto ai discorsi e ai fenomeni d'odio è una questione che purtroppo interessa internet, interessa le rete, interessa i social media e l'odio diffuso in rete e si creano delle bolle di attenzione dove chi si trova in certe idee in qualche modo si sente incoraggiato ancora di più a esprimere queste sue manifestazioni di odio ne parla Sara Tonelli che è una ricercatrice della fondazione Bruno Kessler che da alcuni anni studia le manifestazioni d'odio in rete Sara Tonelli è la coordinatrice del gruppo di ricerca in Digital Humanities che ha sviluppato un software che è in grado di identificare automaticamente i messaggi d'odio è importante, comunque sottolinea la ricercatrice, che ci sia un'azione di educazione con un uso corretto della rete e in qualche modo cerchiamo di appunto presentare queste possibilità che ci sono appunto per smascherare questi odiatori in rete e in qualche modo limitarne i danni che possono fare non può mancare un ricordo su Vita Trentina, un ricordo di Sergio Ferrari che era vostro collaboratore devo dire, fatemi dire veramente due parole perché anch'io con Sergio Ferrari ho lavorato allora ero un giovanissimo giornalista, facevamo una trasmissione ovviamente di agricoltura su una nota radio del Trentino è veramente una persona di un'umanità, di una sapienza incredibile come sapeva anche proprio insegnarti e come sapeva insegnare l'agricoltura Sergio Ferrari, veramente un ricordo lo tracciate anche voi su Vita Trentina? Sì, se ne occupa il nostro direttore Diego Andreatta con Sergio abbiamo avuto una lunghissima collaborazione professionale quando sono arrivato a Vita Trentina lui era già presente con la pagina dell'agricoltura per tutti che era stata una felice intuizione di Don Vittorio Cristelli una pagina rivolta non tanto agli specialisti e agli addetti ai lavori del mondo agricolo ma un portare all'agricoltura che per il Trentino ha un peso così rilevante proprio alla portata di tutti e in questo con la sua lunghissima esperienza di docente e di insegnante all'Istituto Agrario San Michele Sergio Ferrari poi si era anche rivelato un ottimo giornalista pubblicista insieme a Sergio Michelon che era stato suo allievo all'Istituto Agrario per 40 anni appunto ha curato questa pagina ne avevamo appena festeggiato poche settimane fa la pagina numero 2000 un vero record sicuramente a livello nazionale forse non solo una collaborazione per noi molto preziosa una voce anche talvolta critica sugli aspetti del mondo agricolo però con una schiettezza che gli era sicuramente riconosciuta da chi appunto di agricoltura si occupa professionalmente anche perché era bisogna dire veramente uno dei più profondi conoscitori dell'agricoltura trentina Sergio Ferrari veramente un caro ricordo parlate poi dei segni di quaresima nelle pagine interne perché è cominciato quel percorso che ci porterà piano piano alla Pasqua sì ogni settimana l'area annuncia i sacramenti della diocesi di Trento propone o proporrà una parola una parola chiave si comincia con cenere e ogni lunedì verrà proposta sul sito diocesano diocesitn.it potranno essere ricevuti anche via Whatsapp questi messaggi questo è proprio un cammino lungo questo percorso quaresimale è un'iniziativa che vuole accompagnare e soprattutto proporre una rilettura di segni che magari possono essere talvolta presi un po' per abitudine per tradizione e che invece sono davvero carichi di significato e a questo si collega anche l'iniziativa nella pagina degli spettacoli della rubrica cinematografica che si ricollegherà per queste prossime settimane proprio al tema proposto dalla parola della quaresima quindi rimandiamo anche a questa pagina proprio un gioco di rimandi che servono appunto nelle nostre intenzioni nelle intenzioni dei promotori che appunto è l'area annuncia il sacramento della diocesi a porre l'accento su una riflessione che ci invita proprio ad affrontare questo periodo con una capacità di guardarci anche dentro vi occupate poi della raccolta fondi per i profughi della Bosnia Sì, è un'iniziativa che è stata promossa da un cartello di associazioni a sostegno dei progetti che in questo momento cercano di alleviare le sofferenze del migliaio di profughi nel campo di Lipa vicino a Biac in Bosnia e Herzegovina lungo la cosiddetta rotta balcanica sul nostro settimane ci siamo già occupati anche nelle scorse settimane ma è un'iniziativa questa che adesso trova anche il convinto sostegno anche dei sindacati oltre che dell'Arci delle Acli con la Lorongh Ipsia che è proprio sul terreno come vediamo in queste immagini una situazione che a quella quale ha fatto riferimento anche nel discorso ieri il Premier Mario Draghi che richiederà sicuramente questo è anche l'appello forte delle associazioni che sostengono questa raccolta fondi richiede un intervento a livello europeo un coordinamento tra gli stati per non chiudere le frontiere ma proporre un'accoglienza dignitosa rispettosa e che vada nella direzione anche di una possibile integrazione di questi migranti che hanno diritto a un'accoglienza dignitosa e i loro diritti per il momento sono davvero congelati non solo dal freddo e dall'inverno bosniaco Augusto ci fai una veloce panoramica anche sulle pagine dalle valli di cosa vi siete occupati questa settimana in particolare? segnalerei proprio ricollegandoci anche ai temi delle difficoltà per l'economia dovute alla pandemia nella pagina dell'Alto Garda un quadro, un'analisi della situazione del turismo sulle sponde del lago di Garda con le difficoltà comprensibili e poi anche chi fa più difficoltà in bassa Valsugana e nel Tesino chi fa più fatica le iniziative anche solidali per essere vicini alle varie situazioni di difficoltà perdita di lavoro o altre situazioni che comunque richiedono un'attenzione particolare per concludere ovviamente parliamo dell'inserto che oggi c'è allegato proprio con Vita Trentina che è vivere insieme Sì, è la rivista trimestrale della pastorale Pensionati Anziani che offre sempre degli approfondimenti sicuramente interessanti con delle voci anche inedite e la rivista da qualche tempo viene distribuita insieme al nostro settimanale in un'ottica di sinergia dei mezzi di comunicazione di Ocesani e questo numero in particolare abbiamo delle testimonianze anche dalle case di riposo che eppure sono state colpite dalla pandemia ma dove anche comunque ci sono state molte testimonianze anche di vicinanza di sostegno appunto in questo periodo così difficile per tutti grazie grazie infinite ad Augusto Goio giornalista di Vita Trentina che è tornato questa mattina a raccontarci che cosa questa settimana propone il settimanale di Ocesano ce lo ha un po' fatto tra virgolette leggere in anteprima grazie Augusto grazie a voi naturalmente rimando poi alla lettura del settimanale per tutte le altre cose di cui non abbiamo avuto il tempo di parlare